Abbiamo sospeso ieri sera, come prevede lo statuto, il nostro responsabile è l'area tecnica. Sono però tranquillo, la società non c'entra nulla, era all'oscuro di tutto. Lo conferma il presidente dell'Aquila Calcio, Corrado Chioda, all'indomani dell'arresto a Venezia del dirigente sportivo Ercole Di Nicola, originario di Morrodoro. Accusato dalla procura distrettuale antimafia di Catanzaro di essere tra gli esponenti di spicco di un'organizzazione criminale dediti a truccare le partite, in questo caso di Serie D e Lega Pro, quattro quelle dell'Aquila Calcio, corrompendo i giocatori per lucrare sulle scommesse e sul risultato finale delle gare. Chiodi è convinto che la società non rischia la retrocessione, ma la botta è stata comunque forte, ammette, proprio ora che ci preparavamo al prossimo campionato a stringere accordi con le banche, a rafforzare la squadra. E per me è stata una doccia fredda, dovrà essere la magistratura a fare piena chiarezza di quello che davvero è accaduto, su eventuali irresponsabilità penali che, ripeto, sono personali. Una brutta botta anche dal punto di vista dell'immagine della città. Ed ecco che la vicenda diventa anche politica, con il sindaco Massimo Cialente, che conferma oggi che il Comune è pronto a costituirsi parte civile e consiglieri di destra, centro e sinistra che esprimono sconcerto e rabbia. Da parte nostra, da parte politica, c'è una vicinanza innanzitutto nei confronti dei tifosi, dei tifosi dell'Aquila, nei confronti della città, di tutti quanti noi che abbiamo seguito settimanalmente le vicende dell'Aquila Calcio, sperando che non sia l'inizio di un nuovo incubo che possa poi cancellare il calcio da questa città. Sapere che nella nostra città ci sono questi elementi che hanno anche ottenuto parecchio dalla città, nel senso che molte volte, quando ci sono delle crisi, le difficoltà, le pubblicità, eccetera, si chiede di dare una mano e poi invece vengono traditi i tifosi.